Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Io onestamente a questo video non so nemmeno come spiegarvelo. Diciamo che oggi voglio fare un esperimento, ma questo sarà proprio l'esperimento degli esperimenti, cioè un mega esperimento. Infatti la possibilità che falliremo è elevatissima, cioè io non ci spero neanche nella buona riuscita di questa cosa, però volevo provare. Avevo qua fisso in testa questa cosa e prima di passare a quello che sarà poi definitivamente il nuovo colore, volevo sperimentare questa cosa. Facciamo che ve lo dico e basta. Oggi mi tingerò i capelli con le barbabietole. Ebbene sì, questa sarà la nostra tinta di oggi. Perché questa cosa? Perché su TikTok ho visto questo video di Stella Cini dove appunto si tingeva con le barbabietole. E a lei usciva questo colore pazzesco, che quando l'ho visto non riuscivo a crederci. Chi sono io per non replicare questa cosa? Però sinceramente ho dei siri dubbi, come vi dicevo, perché tutte le altre persone che hanno riprovato a ricreare questa cosa hanno fallito. C'è soltanto Stella Cini c'è riuscita. Quindi non lo so sinceramente, veramente una volta risciacquato poi il colore rimarrà. E per quanto rimarrà? Non lo so, se già riusciremo a farlo uscire a sto giro per me sarà già una vittoria sinceramente. E quindi sì raga. Tingiamo i capelli con le barbabietole. Ho visto che nel video utilizzavano delle barbabietole fresche che poi cuocevano e poi frullavano. Io ho comprato queste che sono già cotte, quindi dobbiamo soltanto frullarle. Quindi primo step, frulliamo le barbabietole. Io mai nella vita avrei mai pensato di arrivare a questi livelli. Però ho più tinta naturale di così, non possiamo chiedere. Direi di versarle tutte e si frulla. E la nostra tinta è pronta. Se tutto va secondo i piani dovrebbe uscire un bel rosa, quindi non uscirà mai un colore così scuro ma rosa. Secondo me non uscirà niente, però noi continuiamo con questo esperimento. Ah no, prima di mettermi i guanti pettiniamo per bene i miei capelli. Capelli che come potete notare comunque non sono stata lì a rifarmi le ricrescite, le cose. Cioè ho mezzo metro di radice scura, ma perché tanto questo essendo un esperimento, cioè non mi interessava avere i capelli super perfetti. Preferisco averli perfetti per quando arriverà poi l'effettivo nuovo colore. Che ho già deciso, non vi preoccupate, arriva, arriva. Capelli pettinati. Possiamo procedere. Ok, ci siamo. 3, 2, 1, vado. Oh, messa così effettivamente, cioè sembra tinta. Avevo preparato anche il pennellino però, visto che già stiamo facendo questa cosa un po' così, oddio mi è pareto un pezzo di curia di barbabietola ovunque. Vabbè, dicevo, visto che stiamo facendo le cose un po' così alla carlona, direi che continuiamo con questo metodo approssimativo. Tra l'altro è freddissima perché le barbabietole erano in frigorifero, meno male che oggi fa caldo. Non so che pensare onestamente, perché a vederla così mi viene da dire, no dai, forse, forse funziona. Però dico, ma cavolo, è una barbabietola, c'è per quanto possa tingere, davvero rimarrà sui miei capelli. Voi cosa ne pensate? Provate a fare una previsione scrivendola nei commenti. Adesso però, senza aver visto ancora la fine. Chi lo sa come andrà questo esperimento qua. Tra l'altro penetra anche molto bene tra i capelli, cioè di solito devo fare ciocca per ciocca. Invece, così, va già da sola negli strati sotto. Questa cosa mi piace molto, però vabbè, ovviamente è da ripassare. E se dovesse funzionare c'è la svolta. Economico, naturale, 100% vegan e cruelty free. Cosa vogliamo di più? Proviamo un attimo a dare anche una pettinata nel mentre, perché non sto capendo se la sto mettendo bene oppure no, probabilmente no. Un'altra cosa positiva di questo metodo, sempre se dovesse funzionare, è che ne potete fare un botto di tinta. Raga, io ne ho veramente tantissima. Per me, con i capelli lunghi, ogni volta devo comprare un sacco di tinte. Io con quattro barbabietole mi faccio la testa, ma abbondantemente. Spendendo pochissimo? Vi prego, ditemi che funzionerà. Ah, io ovviamente i capelli li ho lavati ieri sera, in modo tale che oggi faccio soltanto il risciacquo della barbabietola e non faccio sopra uno shampoo, perché già sarà un miracolo se il colore prende. Se in più ci facciamo lo shampoo, secondo me è proprio rip. Quindi li ho lavati ieri sera, come faccio in realtà ogni volta che faccio una tinta. Faccio lo shampoo la sera prima, in modo tale che il giorno dopo risciacquo solo il colore, altrimenti è come se già togliessimo un po' di colore, come se facessimo già un primo lavaggio. E la prima metà testa l'abbiamo fatta, abbiamo ancora tantissima tinta. E nel frattempo sto facendo un casino. Cioè, voi non vedete il tavolo, ma meno male che ho messo un asciugamano. Sembra che io abbia ucciso qualcuno. Pensate invece che ridere se scopriamo che la barbabietola è la cosa più dannosa per i capelli e io tra qualche ora mi troverò pelata. Perché a volte diamo per scontato che una cosa, essendo naturale, faccia bene, sia perfetta, fantastica da usare, invece non è sempre così. Cioè, naturale non significa automaticamente salutare o una cosa positiva per il corpo, per l'organismo, eccetera, eccetera. Però dai, se l'ha fatto Stella Cini, io mi fido, mi fido di lei. Ci sto mettendo veramente pochissimo. È una meraviglia. Cioè, io mi auguro veramente che funzioni, perché d'ora in poi i capelli rosa me li farò solo così, ve lo dico. Poi, mentre vedevo tutte le persone che provavano a replicare questa cosa, ci notavo che alcuni facevano delle cose che, secondo me, erano errori, forse per quello che a loro non usciva. Tipo, filtrare soltanto l'acqua colorata della barbabietola, quindi non usare proprio questa purea che sto usando io. E già, secondo me, è sbagliato perché è troppo poco intenso. O alcuni addirittura diluivano questa purea con il balsamo. Perché amo? Perché fai questa cosa? Cioè, è già un miracolo se ti prende così, se lo diluisci anche con il balsamo, ciao proprio. Quindi dai, sono abbastanza fiduciosa. Sono partita da speranza 0, adesso speranza 1, dai. Non voglio illudermi troppo. Et voilà, abbiamo fatto. Non ci ho mai messo così poco in vita mia. Adesso magari con la tinta rimasta provo un pochino a rimetterla bene sulle lunghezze, perché sulle radici mi sembra ben messa, sulle lunghezze... Guardate, la mia maglietta può venire come ridotta, meno male che è la maglietta delle tinte, ovviamente. E bon! Io adesso lascerò in posa, direi, due orette. Non so quanto sia il tempo di posa ideale in questi casi, non ne ho idea, però mi sento di dire due orette, minimo una, minimo un'ora, non di meno. Se non mi rompo troppo le palle, direi anche due. Dopodiché risciacquo e ci vediamo con il risultato finale. Chi lo sa, raga? Chi lo sa? Ok, raga, ci siamo, siete pronti? 3, 2, 1... Scusatemi! Io sono scioccata. Penso che se volessi riprodurre io un colore del genere non ci riuscirei mai. Ed è tipo uno dei colori più belli che io abbia mai avuto in vita mia. Purtroppo in videocamera non rende benissimo rispetto a com'è nella realtà, perché nella realtà è proprio un rosa stranissimo. Cioè non saprei nemmeno come definirvelo. Però ci tengo a precisare che ho dovuto fare qualche sistemazione. Cioè non è uscito così proprio al primo momento. Ho dovuto ripassare, sistemare, perché in alcuni punti non aveva preso per niente. E quindi ho cercato poi di dare un senso a questa situazione. Però il risultato è andato al di là delle mie aspettative. Ma cioè, totalmente! Sono sconvolta, raga, veramente, cioè non so che dire. Poi ci sta che nonostante tutto, ancora adesso, alcune zone hanno più colore, altre meno colore. Voglio dire, comunque è una barbabietola, non è una tinta. Già mi aspettavo che non uscisse nulla, figuriamoci, un risultato super omogeneo. Quello no, soprattutto dietro, vabbè, insomma. Sembra praticamente come se io avessi fatto il colore da qualche giorno e quindi sia già sbiadito. Però comunque, secondo me, è un ottimo risultato. Un po' scomodo, perché quando poi ho finito di registrare tutte le clip in cui mettevo la barbabietola sulla testa, mi sono ritrovata la barbabietola ovunque. Cioè ho iniziato a colarmi veramente ovunque. Ero piena di barbabietola, la casa piena di barbabietola, nonostante poi abbia cercato di arginare un po' il tutto con della pellicola sui capelli, eccetera, eccetera. Però comunque è veramente un disastro. Quindi su quello un po' poco pratico. Cioè l'unica sarebbe rimanere durante il tempo di posa, nella vasca fermi così. Però se fate uno o due ore di posa, mi rendo conto che diventerebbe un po' scomodo. Però, però nonostante questo, wow. Secondo me se avete i capelli corti poi ancora meglio. Cioè, secondo me prende in modo più omogeneo, in modo più carino. Però, comunque, super soddisfatta. Questo significa che io voglio assolutamente provare altri rimedi naturali. Ci sono un sacco di cose che abbiamo normalmente in cucina che tingono un sacco, tipo la curcuma, raga. Se vorrò farmi i capelli gialli, proverò con la curcuma o magari anche con lo zafferano. Non lo so, scrivetemi nei commenti tutte le cose naturali che vi vengono in mente che potrebbero andare a tingermi i capelli. E boh, raga, quindi questo è il risultato dell'esperimento di oggi. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate. E giunti a questo punto del video, scegliamo un bel hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti. L'hashtag della fine potrebbe essere... Vabbè, raga, non ci sto neanche a pensare, ovviamente. Hashtag barbabietola. Assolutamente sì. Che storia, raga, vi giuro, sono sconvolta. Non avrei mai detto che avrebbe funzionato. Quindi dedichiamole assolutamente l'hashtag. Hashtag barbabietola. Scrivetelo qui sotto nei commenti. E se ci proverete anche voi, fatemi sapere come va. Mandatemi foto, video, qualsiasi cosa. Tancatemi nelle storie, voglio assolutamente vedere. Io, come sempre, vi ricordo che in descrizione vi lascio tutti i link di tutti i miei social. Così, se vi va, potete seguirmi anche lì. Vi ringrazio tantissimo, come sempre, per essere rimasti con me anche in questo video. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao! 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 Grazie a tutti!